Eccoci qua e benvenuti a una nuova lezione! Oggi vediamo un cake al limone e limoncello, molto molto buono! Allora, per realizzare questi qui andate praticamente sopra con la meringa così fino al bordo, ok? Così e poi sopra, ok? Perfetto, quindi i nostri cake sono terminati, quello un po' più semplice, semplicemente spennellato con un po' di gelatina, un po' di zest di limone, qualche decorino di cioccolato e quello invece con la meringa, la meringa fiammata, molto molto semplice, con zest di limone, qualche decorino di cioccolato, qualche piumetta, un po' di oro alimentare e questi sono i nostri cake un po' più impreziositi al limoncello. Dunque, la lezione è terminata, ci vediamo per una foto finale e ci vediamo alla prossima lezione. Ciao!